Buongiorno e buonasera ragazze e ragazze, io sono Tint93 e oggi giocheremo a Pecchè. È tornata con un nuovo capitolo, il capitolo Memory, e io in quel capitolo mi sono comprato... Fatemi abbassare la musichetta. Dov'è? Vabbè, lo faccio così. Mi sono comprato il padre e ho comprato la Big Trap, quella più grande che ti prende sempre. Adesso siamo nella casa normale del primo capitolo. Dov'è Piggy? Vediamo se hanno già posizionato la Plank. L'hanno presa? Sì, l'hanno presa. Andiamo a vedere se l'hanno almeno posizionata. Avete visto come mi è passata davanti? No, no! Mi era passata davanti. Io nemmeno ho accorto, io nemmeno mi sono accorto. Rimettiamo. Rimettiamo. No, non questa partita. Io sono molto più forte da Piggy, non da... Tipo... E basta, così c'è solo questo. Dobbiamo vedere questa. Aspettate, fammi tagliare. Ok, sono rispanauto. Rispanauto. Inauta, partauta. Mi ero buggato dentro la tenda, oddio. Ma c'è Doggy qua, credo. Quel cane. Ho bisogno di una chiave per baggarmi. Per glicciar. Beh. Non mi riesco a glicciar. C'è una pistola. C'è una pistola. Ce l'ho, ce l'ho. Dov'è Piggy? Dov'è Piggy? Doggy. Signor Doggy. Oh, c'è Tigri! C'è quello schifoso. Inseguiamolo. Senza farci brindere. Qualcuno ha sparato un colpo senza... Scappiamo. Io sono un abbetto a Piggy da animature, da... Dalla persona che deve scappare. Sono un abbetto. E muoviti un po'. E muoviti un po'. Prendi pure questa, dai. Ma che fanno? Dai. Ecco voi. Chi manca? Ha un tizio di nome. Credo sia fuori dalla mappa. No, però è appena morto, credo. Chi manca? Avete vinto? No, c'è ancora uno. Gobb. Di ascoli angri. Can. Lascia la chiave per uscire. Prendila. Ma è matto. Ma lascia la chiave per uscire. È matto. Doggy, prendilo. Doggy. Fallo per il bene di tutti. Doggy non se ne frega niente di nessuno. E prendila. L'unica volta per... Hai vinto? No, ne manca ancora un altro. Me ne sto facendo. Zabaglia... Zabavisca. Ehi, raga, mancano 26 secondi. E uccidila. Che parla... Ehm... Un fissone? Ma... E mori. Guarda, è diventato in mille pezzi. Tanto, tre, due, uno, zero. Basta. Adesso potremo finalmente fare la partita. Adesso il vero video inizia. Stiamo a Distort Memory. Vi voglio far vedere com'è la nuova mappa di Piggy. E dai! Ah, no, ah, no, ah, no, ah, no, ah, no. Sì! Distort Memory. Infection, Infection. Infection è bellissimo! Fai, fai che si è bello. No, non mettete... No! Se sono io, spacca tutto. Spacco tutto. Se sono io, no. Un cupenzel. Sì, in questa mappa siamo tutti dei George Piggy. Che dobbiamo finire... Che dobbiamo risolvere il suo incubo. Penny! Aprite! Aprite tutto! Dovete aprire pure tua nonna. Dov'è la chiave blu? Ma hanno... Hanno spostato la chiave? Qua c'è una plank. Io la prendo... Prento! Non chiudermi la porta in faccia, se no io ti faccio fare. Ti faccio mangiare da Piggy. U. Qua non c'è niente. Sei una grande scrufa. Piggy. Meno male che sono scappato. No, qua era la fine. Hanno aperto. Si hanno aperto. Dobbiamo vedere qua sotto che c'è. C'hanno preso tutto. Ci hanno preso tutto. Però io ho messo la plank. Non ti incastrare, sai. Peppa Pig. Che meriudi la porta in faccia! Io non sto capendo cosa dovrei fare perché non trovo niente. Avete preso già tutto? Credo proprio di no. Qualcuno ha preso la pistola? Vai, vai, vai. Scemo. Piggy. Vediamo se ci segui di qua. Se no scappiamo da là. Sì. Corri! Andiamo in bagno subito. Giù. In salone. Apriti. Non c'è niente. L'hanno sparata a Piggy. L'hanno sparato a Piggy adesso. Però non trovo niente. Non c'è praticamente nulla. Tu dimmi una cosa. Sei scemo? Che porti Piggy da me. Ecco. Qua non ha aperto nessuno ancora. Quando aprite. Martello. Speriamo di non andare incontro a un futuro orribile con Piggy. Prendiamo prima il robot. Che è una delle cose più importanti per uscire. Non c'è nessuno schifoso maiale. Qua va il robot. E un dinosauro. Che adesso scendiamo giù per prendere la chiave. Gialla. E' stata donata. Corri. Scappa scappa scappa. Coglietto. Frollino. Sì che non me l'hanno presa la chiave. Eh no. Sì che l'hanno presa. Non potevano lasciare. Ecco. Questo scemo l'ha presa. Perché non sa nemmeno cosa. Se mi incastro forse. Dai che ce la facciamo. Ma che sta facendo questo? Vai prendi lui. Prendi lui. E no. A me no. La storia si ripete ancora. E io se risalgo. Risaliamo. Ciao Biggie. Ciao Biggie. Nuo' rimane là. Puoi sale? Piggie vai via. Ci devi rinunciare. Ciao Biggie. Ciao Biggie. Ciao Biggie. Pfff. Prendiamo gli amo. Ce l'ho. Piggy. È la tua fine. Dov'è? Dov'è sei? Piggy pigosa. Piggy pigosa. Pigosa pigosa. Dov'è Piggy? Dov'è Piggy? Oh Piggy dove sei? Si è scappata Piggy. No. È qua. Vai via. Che scema. Ho la chiave verde. Verde verdina. O mia chiave verde. Come farei senza di te. E si ricorda chi l'ha gonato. Apri te. E si ricorda chi l'ha gonato. Apri te. se è quello è Piggy. Se è quello è Piggy. Quindi noi saliamo di qua e ci buttiamo da qua. È appena morto qualcuno. Speriamo di non fare la stessa fine. Dinosauro! Dino dinetto fa la checca dentro il letto. Dino, Dino, sei un gran Dai, vai Chiave d'accesso Adesso dobbiamo ritornare giù a prendere la chiave, la chiave francese Puoi andare a prendere la yellow key, che è molto brutta, figli si argira Torniamo a prendere la yellow key Stavo finendo la mappa, stavo finendo la mappa Stavo finendo la mappa Stavo finendo la mappa Bene ragazzi, per oggi è tutto